Io da oggi abito qui Non mi poteva trattenere nessuno dal venire in questo posto magico Io abito qui e vi porto in una casa un po' speciale Perché non raccontare le storie uniche? Voi lo sapete, sognare un po' è il nostro obiettivo Grazie a tutti Grazie a tutti.